Caro trader, sei seduto nella tua sedia, stai guardando questo video e cerchi informazioni di valore per migliorare il tuo trading. Probabilmente il tuo conto non è molto in forma, quindi questo è il video per te. Sì, perché quest'oggi parliamo di informazioni di grandissimo valore. Parliamo dei time frame, del mio argomento preferito. Scoprirai delle logiche che probabilmente nemmeno immaginavi esistessero e chiuderai questo video con una visione diversa di quello che può essere il tuo trading. Io sono Giuseppe Polito, questo è l'argomento della settimana e poi andiamo a vedere la mia meta trader, il mio conto real, le operazioni della settimana. Ma parliamo di cosa sono i time frame, sono l'arco temporale con il quale voglio vedere il mio grafico e cioè andare a impostare le candele di una durata diversa a secondo di quello che mi serve. Posso impostarla sul daily giornaliero, quindi ogni candela durerà 24 ore, posso impostarla sull'H4, sull'H1, ogni candela durerà 4 o 1 ora o su time frame più piccoli posso andare a impostare fino a M30, M15, M5, M1. Voglio entrare maggiormente nel dettaglio avrò candele sempre più piccole, quindi lo stesso movimento posso rappresentarlo in maniera sintetica sui time frame più ampi oppure voglio entrare maggiormente nel dettaglio e utilizzare i time frame più piccoli, quindi più rumoroso, secondo quello che voglio fotografare in quel momento, in quell'asset. Molti dei miei allievi mi chiedono, Giuseppe, qual è il tuo time frame? Quale time frame utilizzi per fare trading? Beh, io non utilizzo solo un time frame. È la stessa domanda che possiamo fare a un automobilista e gli chiediamo quale marcia utilizzi per camminare. Ovviamente io utilizzo la prima per spostarmi o se sono in mezzo al traffico, la seconda magari se ho una salita, la terza se voglio passeggiare, la quinta, la sesta se voglio correre in autostrada. Come potrei mai utilizzare solo una marcia? Sicuramente metterei sotto sforzo la mia auto. E la stessa cosa è con il trading, ragazzi. Se utilizziamo lo stesso time frame per fare tutto, probabilmente ci sfugge qualcosa. Stiamo mettendo sotto sforzo il nostro trading. Andiamo a vedere quest'oggi nella pratica, andiamo subito nei grafici e vi mostro come poter fare una previsione sui time frame più ampi, scendere sui time frame medi, H1, H4, per andare a cercare le nostre configurazioni e settare stop loss e take profit e poi scendere maggiormente sui time frame ancora più piccoli per andare a fare un'entrata perfetta, per chiudere nel momento esatto. Andiamola a vedere subito sui grafici. Allora, partiamo analizzando il grafico euro-dollaro. Partiremo dai time frame più ampi per scendere sui time frame più piccoli. Ciò che voglio far capire più di tutti è senz'altro che possiamo vedere quella situazione, analizzarla da diverse angolature, cioè cercare di cogliere delle sfumature che certe volte non riescono a essere viste su un time frame, possiamo coglierle su un altro time frame, capire certi comportamenti dei compratori o dei venditori. La cosa che mi stupisce più di tutti è come i miei colleghi tendano a fare formazione sul trading online indicando solo un tipo di time frame. C'è chi lavora per esempio solo sul daily e fa tutto sul daily, analisi, previsione, apertura, chiusura, gestione, tutto esclusivamente sul daily, chi lo fa sull'orario. Per quanto mi riguarda penso che sia molto molto limitante e oggi voglio dimostrarvelo. Allora andiamo a vedere, siamo su un time frame monthly addirittura, quindi partiamo da un grafico completamente pulito. Andiamo a capire dove è il prezzo attualmente e andiamo a selezionare quelli che possono essere i livelli attorno al nostro prezzo attuale. Come potete vedere al momento noi siamo in questo punto e proprio in questo punto ci sono dei rimbalzi interessanti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Sono rimbalzi importantissimi. Per quale motivo? Perché realmente sul mensile fare muovere un prezzo del genere significa muovere tantissimi volumi, significa rimbalzi che sono durati qui in questo caso anche sei mesi. Il prezzo è stato qui, ha oscillato in questa zona per sei mesi e poi dopo questa discesa è risalito, quindi significa che è molto forte. A questo punto andiamo a mettere una zona attorno a questi rimbalzi per farmi aiutare poi nella mia scelta diciamo di breve periodo. Quindi mettiamo questa fascia qui attorno a quota 1.19. Andiamo adesso sul time frame daily e vediamo quello che è successo nell'ultimo momento. Quindi facciamo l'analisi. Uptrend molto importante. Qui il prezzo, guardate, a 1.19 ha cercato diverse volte di sfondare. Tutte le volte che ci ha provato è stato sempre rifiutato e alla fine il prezzo è ritornato indietro. Quindi questo è davvero un livello importante che ci deve aiutare nella nostra scelta. Noi non possiamo analizzare sul time frame H1 non sapendo dove ci troviamo dal punto di vista storico. Ci troviamo ad un livello di 1.19 fondamentale quindi che cosa faremo? Dopo che il prezzo non è riuscito a scendere i compratori hanno provato un'altra volta 1, 2, al momento qui noi dobbiamo andare a ricercare un segnale per la discesa. Quindi ciò che cercherò al momento è di fare un trade verso il basso perché il livello mi aiuterà a far tenere il prezzo giù e quindi è possibile che dopo questo movimento un movimento del genere anche così breve per me può essere un trade molto importante. Qui ci sono oltre 100 pip di movimento in questo piccolo rintracciamento. Quindi cosa faremo? Scenderemo ulteriormente di time frame per andare a vedere se riusciamo a trovare pattern o segnali per entrare. Passiamo adesso sul time frame H4 e quello che voglio fare è cercare di capire sarei potuto entrare qui in questo punto per la discesa visto che qui questa zona in azzurro mi aiuta a spingere verso il basso quindi questo ciclo avrebbe potuto fare questo movimento qui io devo cercare un segnale qui sopra cosa che sul daily non c'era sull'H4 non c'era nemmeno. Utilizzerò adesso per comodità lo strumento storia e voglio andare a vedere cioè andando sui time frame inferiori io posso andare a fare un'entrata che sia valida. Al momento su H1 al momento qui non c'era nulla su M30 c'era questa candela interessante questa piccola pin bar ma non mi avrebbe potuto cominciare a fare un'entrata M15 nulla di interessante M5 invece sì. Che cosa c'era? C'era proprio ai massimi come vedete il migliore segnale in assoluto stiamo parlando di un testa e spalla di rifiuto quindi sono tre candele tutte e tre con l'ombra pronunciata vi faccio notare questa è la scheda tecnica dei migliori segnali di apertura il testa e spalla con rifiuto significa queste tre candele tutte e tre unite con la centrale più alta degli altri è il migliore segnale di tutti quelli che sono i segnali che come potete vedere sono davvero tanti quello era in testa alla classifica se io avessi preso decisioni solo esclusivamente sul time frame più ampio non l'avrei potuto vedere in questo caso qui io sono nella zona precisa di entrata e sarei potuto entrare al mercato per la discesa nel punto migliore questo significa che attraverso un time frame più piccolo io potevo mettere il mio ordine in questo punto esattamente qui con stop loss poco sopra i massimi e mettiamo il take profit più o meno qui quindi quello che vado a fare io è un'operazione in cui potrei prendere lo stop loss lo posso prendere anche due, tre, cinque volte con questa tecnica quindi basandosi anche sui time frame piccoli voglio fare un trade di ampio respiro che possa essere un intraday un multiday però operando sui time frame piccoli come facessi scalping quindi in questo caso che cosa succede? succede che io ho un rischio rendimento di 12.1 ve lo allargo per farvi vedere 12.81 significa che rischio 4 pip virgola 3 ne guadagno 55 se metto a rischio 100 euro come stop loss io qua ne guadagno 1280 euro è ovvio che è possibile che possa essere colpito cioè nel senso che abbiamo molte probabilità che nelle oscillazioni però nel momento in cui io trovo un ottimo segnale sul time frame più basso io posso fare questi tipi di trade ma andiamo a vedere se non avessi fatto questo trade come sarei potuto entrare per comodità andrò su H1 e cercherò di vedere quello che sarebbe successo andiamo avanti con la storia come vedete il prezzo avrebbe cominciato a scendere e qui noi abbiamo un'ottima situazione per quale motivo? perché intanto si è creato un testa e spalla spalla sinistra testa spalla destra questo è un segnale di rifiuto quindi la neckline sarebbe potuta entrare in questo punto per la discesa cosa è interessante capire in questo caso capire che i venditori che hanno venduto qui in questo momento quando hanno visto questa salita hanno avuto dolore quindi piacere nel momento in cui vincono dolore nel momento in cui perdono molti di loro avranno probabilmente chiuso il trade piacere e dolore in questo momento loro quando cominciano ad entrare e vedono scendere il loro prezzo piacere nel momento in cui inizia a salire pensano di avere sbagliato hanno capito di aver fatto un cattivo trade vedono salire velocemente il prezzo vedere quella che era la loro vincita accumulata in quel momento azzerarsi o magari accumulare una perdita quindi in questa risalita che cosa succede che tutti coloro che hanno venduto qui in questo punto stanno andando a chiudere come chiudono questi ordini di vendita qui li chiudono con degli acquisti nel senso che coloro che fanno una vendita in questo punto nel momento in cui chiudono stanno mettendo un ordine di acquisto per chiudere la loro vendita questo ordine di acquisto che si trova in questa salita è l'ordine che serve ai big player per inserire il loro ordine di vendita tutti gli istituzionali gli age found che vogliono inserire quantità di ordini importanti hanno bisogno di liquidità la liquidità da dove viene riescono dopo che ne avevano inserite alcune posizioni qua con questi trade che fanno risalire fanno chiudere qua loro inseriscono altre posizioni le avevano inserite qui le vanno a rinserire qui prima di far scendere il prezzo vi faccio notare quello che è successo poi il prezzo continua a scendere ma la cosa più interessante è se io non fosse entrato in questo punto sarei potuto entrare in quest'altro punto in cima quindi mettere un risk reward bassissimo e poi cercare di farmi la discesa come facciamo andiamo a vedere realmente se avrei potuto su H1 sarei potuto entrare soltanto qui perché perché il segnale di engulfing ce l'ho qui e devo aspettare la rottura del minimo vediamo invece se potevo entrare su un time frame più basso proprio in cima all'inizio del movimento qui c'era già un segnale interessante ma non mi avrebbe convinto fino a quando non vedevo scendere questa candela quindi sarebbe stato più basso e qui su M15 abbiamo il nostro segnale eccellente vi faccio notare abbiamo un'ottima due ottimi tentativi di salita annullati dai venditori prima di fare scendere il prezzo quindi io sarei potuto entrare qui esattamente qui per la discesa mettendo a rischio mettendo lo stop loss qui quindi rischiavo soltanto questo per la discesa vi faccio notare quale sarebbe stato il trade entravo su M15 qui mettevo lo stop poco sopra e il mio trade andava al minimo precedente quindi qui sotto anche qui avrei messo a rischio soltanto 6 pip 5,9 guadagnandone 97 quindi riesco a mettere in campo una strategia di ampio respiro però con uno stop loss di breve respiro quindi time frame bassissimi per fare l'apertura gestione logica invece sull'ottica del medio termine quando vi dicevo che sarebbe stato un video di valore è proprio questo voglio farvi capire qual è stata la logica vedete qui quando il prezzo iniziava a salire qui c'è un pinbar cosa significa che molti che non erano riusciti a entrare qui vorrebbero entrare qui per prendersi l'altra oscillazione il che in questa candela entrando poi subito discesa risalita immediata questa risalita immediata a cosa serve questa è la fase di dolore procurata dagli istituzionali fase di dolore per chi per coloro che avevano venduto qui per la discesa e in tutta questa candela tutti i venditori di questa candela fin qui sotto tutti coloro che avevano venduto si trovano immediatamente in perdita e dicono per bacco abbiamo sbagliato direzione un trade che non doveva essere fatto quindi veniamo messi sotto pressione nel momento in cui noi apriamo e ci ritroviamo subito in perdita noi per natura il dolore lo vogliamo evitare il piacere tendiamo a farlo durare il dolore lo vogliamo subito stoppare quindi che cosa si fa in questo caso in questo caso tutti coloro che avevano venduto in questa discesa chiudono in questa salita che è liquidità per coloro che poi andranno giù per la discesa e qui che cosa vanno a prendere guardate questa zona qui questa zona qui non è altro che tutti gli stop loss di coloro che l'avevano inseriti qui e non solo gli stessi stop loss di coloro che avevano venduto da qui fino in discesa avevano messo il loro stop qui che è stato colpito prima di scendere quindi questo è un ottimo esempio di caccia agli stop caccia agli stop che nel momento in cui io la conosco e so come gestirla appena vedo una situazione del genere cioè dopo la discesa hanno tentato di far salire il prezzo qui hanno fatto questa caccia agli stop questo è il punto ideale per entrare al mercato se noi conosciamo questa logica sappiamo le logiche di piacere e dolore la caccia agli stop come ragionano tutti gli istituzionali per entrare al mercato questo era il punto migliore per entrare al ribasso questa cosa non l'avrei potuta mai scoprire se io lavorassi solo esclusivamente su H1 lo sto scoprendo su M5 questo non significa che io devo stare lì tutto il giorno dietro uno schermo a controllare i grafici a basso time frame io devo lavorare mediamente almeno nel mio caso lavoro su H1 ma se c'è qualcosa di interessante se io voglio andare a scovare un'entrata precisa devo scendere di time frame per cercare di andare a leggere nel dettaglio quello che sta succedendo sui time frame più piccoli per cercare di entrare in un punto esatto dove il prezzo può iniziare a muoversi da quel momento in poi e io mettere a rischio pochissimo con questa tecnica è ovvio che io prenderò magari anche qualche stop in più ma sono stop da 5-10 pip a fronte di guadagni di 50-80-100 pip andiamo adesso sul petrolio andiamo a vedere trade che vi ho mandato sono entrato ben due volte questa settimana sul petrolio vi avevo dato due tipi di trade ma partiamo con la nostra analisi siamo sul time frame daily vedete come come l'accelerazione del prezzo poi alla fine diciamo i compratori non riescono più a spingere il prezzo e poi crolla swing 1-2-3 cosa ci si può aspettare in questo caso una discesa 4 la storia nel trading tende a ripetersi vedete qui che difficoltà che aveva avuto che difficoltà qui difficoltà qui è ovvio che io posso aspettarmi una discesa devo cercarla sul time frame daily e scendere sui time frame più piccoli per andare a capire come muovermi per l'apertura e per la gestione del trade quindi su H4 cosa vado a vedere vado a vedere che qui il prezzo aveva avuto difficoltà qui difficoltà si sta congestionando all'interno di questa fase triangolare cosa interessantissima su H4 vado a vedere che qua c'è stata la ricerca di liquidità da parte dei big player vanno a prendere tutti gli ordini che erano stati inseriti qui sopra ai massimi precedenti per poi portare il prezzo giù a scendere secondo segnale che vi ho inviato vi ho detto ragazzi rottura ritest anche qui possiamo andare a cercare un altro segnale per la discesa andiamo a vedere effettivamente come si poteva entrare in quel punto su H4 effettivamente già avevamo un ottimo segnale guardate non per forza devo scendere sui time frame bassi se io ho dei segnali eccellenti anche sui time frame diciamo più ampi vedete questa candela qui quest'ottimo candela è una candela senza corpo ombra molto pronunciata che va a testare esattamente dentro la zona e anche la mia trend line quindi qui io potevo entrare per la discesa anche se ancora non è iniziato a scendere comunque non si è mosso più di tanto alla fine qui si poteva fare qualcosa ma vediamo se io potevo entrare qui molto più stretto e già essere in vincita con un stop loss molto stretto andiamo a vedere se si poteva fare anzi si poteva fare perché l'ho fatto io e voglio dimostrarvelo andiamo direttamente sulla mia entrata M5 io ho aspettato che si creasse un segnale su M5 per entrare proprio molto molto stretto cosa ho cercato? ho visto che il prezzo in questo punto mi ha creato questa candela di debolezza non mi serviva perché comunque è una piccola candela non è una candela importante però dopo che vedo il secondo tentativo dei compratori e qui dimostrazioni di forza dei venditori quindi prima debolezza compratori dimostrazione di forza dei venditori con questo pattern io posso entrare per la discesa e così ho fatto ragazzi alla fine non ho vinto perché avevo spostato lo stop loss al pareggio vi mostro come è andata a finire il trade vedete avevo ho fatto questo errore ho spostato lo stop qui al pareggio e sono stato beccato in questo punto se avessi lasciato invece lo stop dove l'avevo inserito a questa ora sarei in vincita ma andiamo al segnale successivo l'altro che avete ricevuto che attualmente è in vincita parlo di australiano franco svizzero sono a 702 euro di profitto vi faccio notare quella che era stata la dinamica intanto partiamo dal time frame daily così come va fatto quindi siamo in una situazione in cui il prezzo va verso il basso è una trend line che ha fatto reagire sempre molto bene il prezzo anche in quest'ultimo periodo quindi comunque cercherò di un rimbalzo per la discesa cosa che abbiamo cercato di fare vi ricordate già nelle settimane precedenti sempre sul daily vedete il range in cui siamo stati in quest'ultimo periodo il tentativo di sfondamento poi con il ritorno qua più breve e qua poi alla fine è ritornato di nuovo giù prezzo che si è adagiato sempre qui vedete qui c'è stato il breakout è uscito fuori da questa fase e poi va a risalire qui andiamo a cercare il nostro segnale di inversione per un trade di tipo short vi ho dato come indicazione di entrare in questa zona ma andiamo a vedere come fare l'apertura allora partiamo dall'H4 non c'erano segnali interessanti vedete questa era la zona che io vi ho indicato dove dovevamo cercare il segnale qui il prezzo non era riuscito a rompere poi rompe con forza qua c'è il consolidamento e qua andiamo a ricercare il nostro segnale per la discesa quindi che cosa si fa su H4 non c'è nessun tipo di segnale scendo su H1 su H1 non c'è pur essendoci questo doppio massimo mancato ma non è diciamo eccellente sarebbe potuto essere interessante eventualmente questa candela seguita dalla candela rossa era un ottimo un ottimo segnale di entrata ma io voglio entrare qui su voglio voglio cercare l'entrata proprio precisa al massimo cosa faccio scendo ulteriormente di time frame M30 trovo già qualcosa di interessante vedete come qui c'è stato un ritorno indietro il prezzo si è arrestato qui il tentativo diciamo fallito dei compratori di portare il prezzo su se non sbaglio l'ho pure analizzato su M15 quindi guardiamolo anche più nel dettaglio guardate come è molto chiaro ragazzi qui i venditori iniziano a avere la meglio i compratori tentano per l'ultima volta le ultime energie per far risalire il prezzo e sfondare andare verso il rialzo e subito viene inghiottito quindi questo è un ottimo segnale noi abbiamo un massimo che cerca di essere ritestato qui non ce la fanno torna immediatamente indietro apertura qui per la discesa avevo messo lo stop loss qui sopra in questo caso non l'ho accorciato quindi qui non sono stato colpito e poi è iniziato a scendere quindi ragazzi la logica è proprio questa cerchiamo di lavorare sui time frame più ampi per gestire il nostro trade giornaliero quotidiano e se abbiamo bisogno scendiamo sui time frame più bassi e cerchiamo di fare un'entrata precisa un'entrata stretta e come cerchiamo di farla andiamo a capire quali sono le zone di liquidità che corrispondono poi sempre alla zona di dolore e cioè i compratori o i venditori che iniziano il loro trade e poi si trovano immediatamente in perdita in un movimento importante sono messi sotto pressione ed è in quel momento che chiuderanno i loro ordini ordini che serviranno ai big player per fare ripartire il prezzo e cavalcare una nuova oscillazione spero che queste informazioni vi saranno utili adesso andiamo a vedere la mia metatrader il mio conto reale ci sono tre operazioni attualmente in corso che lascerò aperte per tutto il weekend questo è il mio conto la mia metatrader è un conto reale real one lo seleziono lo vedete da qui e come sempre metto del nastro per evitare di far vedere la sigla del broker evitando pubblicità occulta posizione aperte e questo è il mio saldo che nascondo per un discorso di privacy le tre operazioni aperte sterlina franco svizzero euro australiano e australiano franco svizzero che abbiamo visto poco anzi attualmente oltre 3.000 euro il profitto parziale operazioni che lascerò aperte per il weekend vedremo la prossima settimana se chiuderle a inizio di settimana farle correre diciamo per tutta la settimana prossima andiamo su storico operazioni questo possiamo toglierlo il nastro che nascondeva il mio saldo e vediamo tutte le operazioni della settimana che effettivamente sono poche allora queste sono quelle della scorsa settimana e qua vedete 57 euro sterlina australiano ci ho provato due volte ma ritornava indietro sia qua che qua vedete prima 57 euro di profitto e poi 20 euro di profitto poi il crude oil come vi ho spiegato prima ci ho provato la prima volta è ritornato indietro e mi ha procurato 113 euro e la seconda volta questo 0,50 che vedete qui sopra 29 euro di perdita alla fine USD CHF e euro franco svizzero 20 euro rispettivamente meno 85 quindi operazioni che poi alla fine non hanno procurato chissà quanta vincita o quanta perdita però voglio farvi notare per ritornare al discorso di prima vedete qui l'operazione qua parliamo di australiano franco svizzero presa praticamente esattamente in punta al movimento quindi da dove è iniziata poi la discesa questo è australiano franco svizzero ma possiamo vedere la stessa cosa su euro australiano vedete come sono riuscito a entrare proprio qui sotto nella parte più bassa del movimento prima che si estendesse quindi possiamo vedere profitto di 2250 euro qualora continuasse a salire e va a toccare il mio take profit o 272 euro di perdita eventualmente dovesse scendere per quanto riguarda invece ho spostato lo stop loss al pareggio per quanto riguarda australiano franco svizzero è profitto in caso di vincita di di 2200 euro quindi vedremo li lasceremo aperti e vedremo se riusciranno a scendere franco svizzero yen sta proprio adesso toccando il nostro take profit di esattamente andiamo a vedere quanto di 1583 euro che potrebbero aggiungersi a questa perdita parziale di 120 euro circa al momento quindi qualora si chiudesse fra poco già sarei in profitto parziale di oltre 1300 euro giriamo la camera ed eccoci i saluti di Vito mi raccomando ragazzi massima prudenza fate trading con la testa ci vediamo la prossima settimana ciao ciao ciao